Ciao, sono Cristina Toso, sono candidata alle amministrative per il Consiglio Comunale della città di Padova del 25 maggio 2014 e chiedo il tuo voto perché? Perché le mura cinquecentesche di cui si vede il bastione gattamelata alle mie spalle ritornino ad essere un museo a cielo aperto, un museo visitabile da parte di tutte le cittadine e di tutti i cittadini di Padova e non solo, un punto d'attrazione turistica per questa città che è una delle più belle città dell'Europa. Per Padova patrimonio UNESCO, anche per le sue mura, chiedo il tuo voto. Il 25 maggio fai una croce sul simbolo del Partito Democratico e scrivi Toso Cristina. Grazie.